Benvenuti alla seconda puntata di Pillole di Altro Cinema. Oggi vi parleremo di un film che può essere annoverato nel cosiddetto genere distopico, anche se la vicenda non si svolge in un immaginario futuro, perché non vengono dati riferimenti né di luogo né di tempo. E secondo noi questo rende ancora più efficace il film, perché parla direttamente a noi, a noi uomini di questo tempo e ci descrive alcune derive ideologiche che caratterizzano la nostra era. Per me questo corso è tutto sull'autocontrollo. L'alimentazione consapevole rafforza e purifica il corpo. Ci troviamo all'interno di un liceo molto esclusivo, il Talent Campus, che ha alcuni motti che vengono anche appesi alle pareti. Uno di questi è In te c'è di più. Un altro invece recita Arriviamo sino alle stelle. Ora, questo linguaggio che possiamo definire motivazionale, che oggi ritroviamo anche in molti ambienti, è uno dei tratti caratteristici di questo liceo. Bene, ad un certo punto arriva una nuova insegnante, che viene tra l'altro indicata da alcuni genitori, la signorina Novak. Questa insegnante terrà un corso di alimentazione consapevole. Ora, già questa espressione può sembrarci un po' disturbante. Del resto noi oggi spesso parliamo di alimentazione, con tutte anche le ideologie che ci sono connesse, sottese. Bene, l'Ausner utilizza questo tema, che è il tema centrale del film, ma lo porta alle estreme conseguenze. Al grottesco e oltre, fino al tragico. Cibo e vita. Ma possiamo anche dire il cibo è vita. Ora, questo binomio viene in qualche modo spezzato o rovesciato nel film, perché il cibo viene visto come contrario alla vita, nocivo alla vita. Tanto alla vita delle singole persone che del pianeta. Ma questo aspetto di ostilità alla vita, di qualcosa che non le è conforme, nel film si respira anche dagli ambienti, ad esempio, dalle scenografie, dalle architetture quanto dagli arredamenti, sia della scuola che delle case di alcune famiglie. e poi anche l'abbigliamento. Le divise della scuola, quindi dei ragazzi, con questi pantaloncini lunghi e goffi che arrivano fino alle ginocchia, color cachi, indossati sia dai ragazzi che dalle ragazze. E poi le polo gialle quasi elettriche e i calzettoni viola. Questi due colori, tra l'altro, il giallo e il viola si ritrovano anche negli arredi o in alcuni oggetti. E questo binomio cromatico trasmette un senso e un chiaro segno di malessere, di ambiguità, di qualcosa anche di distorto, di spaventoso. Ecco appunto, Club Zero utilizza questi aspetti e non solo per dimostrarci che in questo mondo apparentemente perfetto, in realtà niente è perfetto. Le inquadrature sono quasi sempre fisse e geometriche, però talvolta la regista le intervalla con alcuni particolari movimenti di macchina, ovvero un avvicinamento e un conseguente allontanamento dai personaggi. E questo rafforza questo aspetto glaciale e ipnotico allo stesso tempo. E poi veniamo alla musica. La musica è minimale. Pochissimi sono gli strumenti che vengono suonati. Ed è una musica ripetitiva, ossessiva, ritmata e quindi ipnotica anch'essa. Quindi, come vedete, tutto nel film concorre a creare un universo di senso. Ed è importante soffermarci su questo, perché appunto questa è una delle caratteristiche che vogliamo sottolineare, che rende questo film, al di là dei suoi anche limiti artistici, per carità, noi non enfatizziamo ovviamente le qualità del film e magari anche qualche sottile ideologia che può attrapelare dal film come un'adesione invece alla bontà della cosiddetta scienza ufficiale. Però, al di là di questo, noi riteniamo che sia un film assolutamente da vedere. Innanzitutto, riprendiamo il filo di quello che abbiamo letto fino adesso. Quello che abbiamo descritto fino adesso ci dice una cosa molto precisa, ovvero la cura del dettaglio. Tutto in questo film è curato, è voluto. Qualcuno potrebbe dire, ma queste sono cose, questioni, che attengono agli addetti ai lavori. E invece non è così. Innanzitutto perché comunque il cinema è espressione della vita e quindi essere coscienti di certe cose significa essere più coscienti della vita e di cosa la vita esprime attraverso i dettagli. E allora potremmo domandarci, ad esempio, quanto noi siamo consapevoli dell'uso dei colori nel cinema, di un certo uso delle scenografie e dei costumi, di un certo uso delle inquadrature, ovvero di alcune inquadrature piuttosto che altre, o dell'uso della musica. In realtà, se incominciassimo a divenire sempre più consapevoli di questi aspetti, che ovviamente chi fa arte conosce molto bene e conosce non solo il significato, ma conosce anche il potere che utilizzare queste caratteristiche può avere sul pubblico, un potere che può divenire anche pericoloso, perché può essere un potere manipolativo. Allora, divenirne consapevoli come pubblico significa anche riuscire ad allenare un occhio che può divenire sempre più sottile, ecco diremmo, sottile, nella capacità di leggere la realtà. Un altro aspetto molto interessante del film è sicuramente questa descrizione dell'uso manipolatorio che si può fare sugli altri, qui attraverso un insegnamento ad esempio, ma questo uso manipolatorio è suggestivo, quindi c'è l'ipnosi, la suggestione. L'abbiamo visto nel film ed è utilizzato anche attraverso tutti questi strumenti artistici che servono a rafforzare la storia che viene narrata. L'insegnante, la signorina Nova, che infatti utilizza nei confronti dei ragazzi delle chiare tecniche manipolatorie, ipnotiche. E queste tecniche ipnotiche hanno ovviamente delle caratteristiche. Le principali sono l'utilizzo di alcune parole ripetute, di rituali, dell'uso distorto di tecniche meditative. e poi c'è un ultimo ingrediente che va descritto un po' meglio. In questo film, e possiamo ritrovarci chiaramente la nostra società così come la viviamo tutti i giorni, tanto la scuola, che è completamente centrata sul successo. Tanto le famiglie borghesi, ultracapitaliste, sono entrambe completamente distratte, centrate su se stesse e non vedono i ragazzi. Vedono un'immagine dei ragazzi, ma non vedono i ragazzi. Chi è nel film l'unica persona capace di vedere veramente i ragazzi, di riuscire a entrare in relazione con loro, di riuscire anche a vedere le loro fragilità, le loro preoccupazioni, i loro vuoti emotivi che nascono proprio da queste famiglie? Bene, l'unico personaggio capace di fare questo è la signorina Novak. E questo è molto importante perché ci fa capire come in un mondo come il nostro, che è un mondo dove tutti sono centrati solo su se stessi, ecco appunto il male ha molta facilità a trovare spazi di azione. Del resto, guardiamo ad esempio gli ultimi quattro anni, il potere non ha utilizzato proprio queste modalità, ha utilizzato delle modalità suggestionanti, manipolative. Si è posto nei confronti di un'intera nazione con quell'atteggiamento del noi ci prendiamo cura di te, cittadino, perché noi abbiamo cura del tuo bene, della tua salute. L'ultimo aspetto poi che noi vogliamo evidenziare in questo film è il discorso sull'immaterialità. perché l'alimentazione consapevole che viene poi portata fino alle estreme conseguenze racconta di un desiderio soffocato, che c'è anche nei ragazzi, del bisogno di raggiungere l'immaterialità, come se appunto la materia, vediamo appunto queste famiglie ricco, borghesi, annoiate di una scuola che sembra solo apparenza, soffoca la vitalità dei ragazzi, appunto non li vede i ragazzi. Allora c'è questo bisogno di affrancarsi dalla materia. La materia ha creato una gabbia e bisogna raggiungere l'immaterialità. Ma come? Ecco nel film chiaramente la traiettoria che viene proposta, che viene descritta attraverso questa alimentazione che tende sempre a diminuire il cibo che le persone devono ingerire, è un tentativo di raggiungere questa immaterialità. Ma questo aspetto noi lo vediamo anche nella società di oggi, dove se noi leggiamo tra le righe noi vediamo un'insoddisfazione profonda di questa umanità, un'insoddisfazione che nasce appunto dal fatto che noi siamo soffocati costantemente dalla materia, a cui cerchiamo di sfuggire. Ovviamente sfuggiamo alla materia spesso con modi che sono errati e ci portano a dei falsi traguardi, a volte anche a degli esiti nefasti. Però c'è questo desiderio, è innegabile se leggiamo bene, anche certi comportamenti deviati e devianti. E quindi vogliamo prendere spunto da quest'altro aspetto del film per lasciarvi con una riflessione finale. È secondo noi possibile essere veramente estranei allo spirito di questo tempo senza intraprendere un vero cammino spirituale? Intendiamo appunto vero cammino spirituale e non una certa religiosità che oggi domina, che alterna un legalismo soffocante a un sentimentalismo potremmo dire enfatico. No, noi ci riferiamo a un serio cammino spirituale che nutre l'intelletto e che prima di ogni altra cosa sia capace di riconciliarci col nostro essere anime e quindi riesca effettivamente a staccarci dal materialismo a cui tutti, e purtroppo dobbiamo sottolineare tutti siamo soggetti, anche coloro che credono di esserne immuni. Bene, insomma, con questa riflessione vi lasciamo e quindi concludiamo il nostro secondo appuntamento di Pillole di Altro Cinema. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie.